Ciao a tutti, sono Giuseppe Urso, con un immenso onore e piacere vi presento l'istrumento del quale sono Orgoyos & Lobster, la Tama Silvestar Metro Jam, una batteria piccola e pratica nelle dimensioni ma grande nel sound. Viene venduta a un prezzo strabiliante per ciò che offre, le misure sono Cassa 16, Tom 10 e Timpano a terra 13. È uno strumento versatile, altresì con differenti accordature e tra poco potrete ascoltare di persona le reali caratteristiche con il video che ho preparato per voi. Un grazie speciale al Leopoldo di Acustica, col quale sono in piacevole collaborazione dal 1997, Tama, Mogha naturalmente, Turkish Symbols di Istanbul. Grazie e buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.